Musica I diritti dei cacciati di solito vengono percepiti da una volgata populista come un sostegno ai criminali. Come si può spiegare che questo non è? Perché la più saggia politica della sicurezza è garantire diritti e far intendere alle persone che pure hanno commesso dei reati, che pure scontano una pena, che se loro seguono correttamente i loro percorsi possono reinserirsi correttamente. Viceversa i maltrattamenti, la negazione di diritti in un ambiente di questo genere rischiano soltanto di alimentare un risentimento e quindi in qualche modo di alimentare una insicurezza. Perché poi queste persone usciranno di qui e a seconda di come sono trattate qua dentro potranno più o meno inserirsi dentro la società fuori. Non ci dobbiamo scordare quello che erano gli istituti penitenziari sotto il profilo della sicurezza o meglio della insicurezza negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, in cui erano frequenti come dire non soltanto le evasioni degli istituti penitenziari ma anche gli omicidi, le aggressioni, le rivolte all'interno degli istituti. Quindi leggere oggi il sistema penitenziario, seppure con tutte le sue lacune, certamente ci sono margini di miglioramento, è certamente completamente diverso, è certamente più efficiente sia sul piano della sicurezza che del trattamento rispetto al passato. Dal mio osservatorio, cioè da un osservatorio orientato alla fascia di età 14, 18, magari 25, la scuola non è importante, è importantissima perché effettivamente crea le possibilità concrete per un reinserimento nel dopo penale. Quindi deve essere una scuola capace da una parte di essere concreta e spendibile nel futuro e dall'altra deve assestare competenze di tipo personale e renazionale. La minorità è di per sé generatrice di cambiamenti e i cambiamenti che possono fare i ragazzi sono cambiamenti veloci, sono cambiamenti significativi. Per questo è importante il lavoro della scuola, ma il lavoro di specializzazione di tutti gli operatori che lavorano con i minori che entrano nel circuito penale. Il nostro ruolo all'interno proprio del Dipartimento è quello di vedere l'Istituto Penale come uno dei servizi per la ricostruzione del progetto educativo. Si può fare sistema anche nei confronti di una struttura così complessa come il carcere? Io credo che in realtà fare sistema sia una sfida a cui siamo chiamati, però alla fine è una sfida pagante perché si lavora tutti meglio e si acquisiscono più conoscenze. Ora la cosa più bella del mondo penitenziario e della giurisdizione come magistrato di sorveglianza che si vive nell'esecuzione penale è che ciò che conta è passare dall'attenzione al fatto che fotografa ciò che è accaduto, il reato, la ferita inferta alla società, alla persona che è in continua evoluzione. Allora per valutare questa evoluzione noi abbiamo assolutamente bisogno di conoscere e si conosce a tutto tondo, quindi facendo sistema. Soltanto se si conoscesse di più che le statistiche ormai da più parti provenute ci dicono che la recidiva si riduce dal 70% di chi ha terminato la pena in carcere al circa il 30% o ancora meno di chi ha avuto la possibilità di svolgere dei percorsi che lo abbiano ricondotto verso la società accompagnato e quindi anche con misure alternative al carcere, io credo che questo convincerebbe molto. Non è buonismo, è invece fare un lavoro più efficace per le persone che sono ristrette ma soprattutto per la società alla quale devono tornare. Un'iniziativa come questa va un po' in controtendenza rispetto al clima generale nella società, lei l'ha sottolineato nel suo intervento. Crede che è possibile dare risposte civili alla questione del carcere anche in un contesto piuttosto difficile, politico e generale? Beh sì, un po' difficile sì, però è obbligatorio farlo, è obbligatorio farlo per motivi di umanità perché chi ha sbagliato è giusto che paghi per rispetto delle vittime perché siamo in uno stato di diritto, ma la pena non può essere una vendetta, la pena deve essere tesa a recuperare la persona che ha sbagliato perché quando esce, se esce con un mestiere in mano, con un diploma preso in carcere e se esce recuperato non tornerà a delinquere. Quindi investire in umanità e in recupero significa anche investire in sicurezza, quindi è obbligatorio fare questo. Alle paure non si può rispondere con atteggiamenti rozzi, alle paure si deve rispondere razionalmente e c'è chi lo fa. La società però è disattenta alla questione carceraria, ne vede solo gli elementi emergenziali. Come si può spiegare che per fare sicurezza bisogna intervenire anche nella formazione, nella costruzione di persone dentro il carcere? Non si può più parlare di singola buona pratica, ma si deve fare sistema di tutto quello che in questi anni è stato portato avanti. Noi abbiamo un progetto e abbiamo un prototipo che abbiamo presentato al Ministero dell'Istruzione, che è stato svolto proprio l'anno scorso nel carcere di Spoleto, nel carcere di Massima Sicurezza, dove i detenuti hanno fatto un percorso laboratoriale interdisciplinare e quello è il nostro modello, per non abbandonare i contenuti disciplinari che a scuola occorre portare avanti, ma per riformularli attraverso una metodologia didattica ed una pratica didattica che possa essere quella giusta per degli adulti che peraltro sono ristretti in carcere e che devono trovare una motivazione per lo studio, ma per l'accompagnamento al di là e al di fuori del percorso penitenziario, perché l'obiettivo vero è questo, lavorare dentro perché escano fuori i detenuti e questo non si può fare se non attraverso una pratica didattica che però deve avere un accompagnamento e una misura che il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia insieme devono comunque portare avanti. Si accusa questo tipo di atteggiamento di buonismo, in realtà però è il contrario, cioè questo produce sicurezza e le politiche diciamo più forcaiole producono pericolo? Ma diciamo che le politiche securitarie che si stanno impossessando di una grande parte della società possono essere portate avanti per mancanza di conoscenza. I stessi laboratori culturali che si fanno in carcere forse dovrebbero avere come laboratori scuola-società un impatto anche all'esterno perché in realtà in questo momento ciò che bisogna ritessere è proprio un connettivo sociale che trovi e dia significato alle cose che poi si fanno qui dentro e su questo bisognerebbe spendere in termini di istruzione non soltanto in carcere ma anche al di fuori. Grazie a tutti! Grazie per la visione!